Salve a tutti, ecco qui finalmente completato il convertitore a mezzo ponte. Come si può vedere è venuto abbastanza ingombrande, soprattutto per le alette che sono di dimensioni notevoli e anche per la presenza del trasformatore che occupa un bello spazio. Diciamo che come il back è tutto abbastanza volante quindi non ho fissato ancora rigidamente i dissipatori in quanto poi sarà riarrangiato nel case finale, quindi diciamo questa tavoletta ha solo scopo di supporto per quello che poi sarà il test di oggi. Quindi dando uno sguardo più da vicino a come è venuto, muovo la tavoletta perché è abbastanza grosso quindi non riesce a venire tutto in un'inquadratura, qui abbiamo la scheda di primario, si distinguono chiaramente le sue parti quindi questi sono i due gbt, i condensatori di mezzo ponte quindi gli elettrolidici e i polimerici e poi qui in mezzo c'è il driver. Questi sono due franco bolli che diciamo ne parleremo poi in seguito nella fase di analisi dell'errore quindi per il momento tralasciamo la loro presenza ma questa è la scheda di primario così come era stata progettata. Qui in mezzo troviamo il trasformatore che abbiamo già visto nel video dedicato al suo design quindi qui è soltanto la posizione centrale in cui è collocato e poi qui abbiamo il secondario di rettifica quindi i due capicorda del secondario arrivano sulla scheda, qui ci sono i quattro diodi del ponte intero e poi abbiamo il condensatore di livellamento e subito l'uscita. Inoltre questi siluri neri che vedete posizionati in questo modo in pratica sono aggiunte di condensatori perché in effetti uno solo si surriscalda un po' perché ovviamente 25 ampere di uscita con il ripple che è richiesto diciamo forse sono stato un po' troppo ristretto col dimensionamento sicuramente ci andavano almeno due elettrolitici e due polimerici quindi ho cercato di compensare in questo modo. Li ho messi in orizzontale perché tanto riescono a stare perfettamente fra le due alette quindi giro anche la tavoletta per avere una visione da tutte le parti quindi questa appunto è l'uscita con si vedevano i due fusibili e poi da qui si vede anche dall'altra parte del primario quindi adesso si vede bene l'IR 2153. Questo è molto volante ma per il momento va bene così non forziamo troppo la situazione. Dunque quello che vedremo nel video di oggi sarà un test dell'alimentatore quindi lo connetterò al variac attraverso il trasformatore di isolamento e piano piano salendo in tensione farò in modo da erogare sempre più potenza in uscita quindi andrò a mettere un bel po' di carichi sul secondario e andremo a vedere quando riusciamo a buttar fuori. C'è da dire che purtroppo non arriveremo a 1000 watt. Perché questo? Non perché il convertitore non ce la fa ma perché purtroppo il variac quando si sale sopra la tensione di rete quindi per tensioni superiore a 220 volt rms diciamo che non funziona tanto bene perché essendo un auto trasformatore quello che succede è che quando è richiesta molta potenza in uscita diciamo che quell'induttanza parassita non aiuta per niente. Poi considerando che metterò in uscita un blocco di condensatori da 1,5 millifarad diciamo che la rettifica il picco di corrente di rettifica non riesce ad essere erogato dal variac quindi in uscita pian piano che si sale con la potenza si potrà arrivare massimo a 300 volt dc e a quella tensione la potenza massima che può essere erogata dal convertitore è all'incirca 600 watt quindi per riuscire a erogare 1000 watt bisognerebbe avere in ingresso la 400 volt che raggiungeremo poi quando lo stadio di pfc sarà funzionante e quindi avremo uno stadio che riesce a fornire tutta la potenza piena a quella tensione. Quindi in pratica quello che faremo oggi è soltanto un test preliminare quindi adesso preparo il setup di misura e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. Ecco qui il setup di misura quindi questo è il convertitore a mezzo ponde connesso a tutti i dispositivi quindi abbiamo l'alimentazione di ingresso che verrà erogata col variac e verrà rettificata su quel blocco di condensatori e poi in uscita abbiamo le resistenze di carico attraverso cui dissiperemo la potenza erogata. Poi gli strumenti di misura saranno questo amperometro con cui misuriamo la corrente di ingresso, quel multimetro messo in modalità voltometro con cui misureremo la caduta di tensione sul nostro affezionatissimo filo sott'olio quindi sullo shunt di corrente e poi con lo oscilloscopio vedremo la tensione sul nodo switching di mezzo ponte e la tensione di uscita quindi effettueremo un controllo lì sopra mentre questo è l'alimentatore che dà energia alla logica del mezzo ponte quindi all'ir 21 53 mentre quest'altro è il circuito di protezione in corrente quindi dispositivo essenziale per effettuare queste prove. Ovviamente io salirò piano piano in tensione fino a raggiungere quella di 300 volt e poi prenderemo la temperatura dei vari componenti su scheda quelli critici ovvero i diodo di rettifica gli IGBT e il trasformatore per verificare che in effetti tutto stia funzionando correttamente. Ovviamente come detto non arriveremo a potenza piena ma ci fermeremo quando raggiungeremo 300 volt dc. Ultima precisazione prima di iniziare il test vi ricordo che il banco è protetto da molti dispositivi di sicurezza in questo momento quindi ci stanno degli interruttori differenziali che non si vedono in questo momento nell'inquadratura che è abbastanza ampia c'è il circuito di protezione in corrente che interviene a velocità rapidissima e soprattutto il banco non è alimentato con la tensione di rete ma siamo isolati dalla rete quindi c'è un fattore di sicurezza molto importante quindi vi ricordo che questo tipo di applicazione è pericoloso e se volete imitare questo progetto vi consiglio di adottare gli opportuni dispositivi di sicurezza. Molto bene quindi è tutto pronto per il test e inizio a salire con la tensione. ecco qui sull'oscilloscopio l'onda quadra si vede abbastanza lontana ma continuo a salire in questo momento abbiamo una dc di ingresso pari a circa 120 volt è una corrente di uscita di 10 ampere circa perché lo scianto di corrente in questo momento è messo con una resistenza equivalente di 0,0 15 ohm quindi ogni 15 millivolt sono un ampere quindi 150 millivolt corrispondono a 10 ampere mentre la tensione di uscita che sto misurando con l'oscilloscopio è di circa 13 volt continuo a salire molto bene siamo a circa 210 volt di picco e 1,66 ampere di ingresso e all'incirca 15 ampere di uscita tensione di uscita 26 volt continuo a salire fino a raggiungere i 300 volt ecco qui quindi in questo momento siamo a 300 volt di tensione rettificata abbiamo una corrente di uscita di circa 17,5 ampere con una tensione di 31 volt di uscita corrente di ingresso 1,82 ampere inizio a prendere una temperatura parziale dei componenti e vediamo il frattoria di aggiungente dei componenti di uscita corrente di uscita di uscita e realizzazione сот 45 gradi e queste respondano tagliamo a 90 gradi digit circuito e aspetto che raggiunga il regime termico. Inoltre in questo momento facendo un calcolo veloce a mente siamo circa a una potenza di 31 volt per 17 ampere e mezzo quindi superiore di poco ai 500 watt. E' passato qualche minuto prendo nuovamente la temperatura di odia 58 gradi trasformatore a 30 gradi i GBT a 52 gradi. Continuo a far lavorare il circuito e penso che lo farò andare avanti per 10 minuti un quarto d'ora. Ho fatto lavorare il circuito per circa un quarto d'ora e adesso riprendo le temperature. Diodi a 65 gradi trasformatore a 42 gradi i GBT a 64 gradi. Quindi tutto sommato considerando che sta lavorando a 500 watt di uscita il convertitore sta rispondendo abbastanza bene perché queste temperature si possono dire relativamente tiepide. Almeno per quanto riguarda gli i GBT. Infatti in questo momento loro sono a metà della potenza che possono erogare quindi mi aspetto al massimo un raddoppio delle perdite quando saremo a 1000 watt quindi raggiungere un 90-100 gradi. Mentre per quanto riguarda il magnetico e per quanto riguarda i diodi essendo che in questo caso conta solo la corrente di uscita e siamo sui 17,5 ampere quindi siamo ben oltre la metà della corrente massima che può erogare questo convertitore. Quindi stanno rispondendo molto bene quindi un'ulteriore aggiunta di corrente al massimo può far salire di altri 10 gradi i diodi e di altri 10 gradi il trasformatore ma comunque restano temperature basse. Molto bene quindi il convertitore sta lavorando davvero in modo eccellente. Molto bene quindi come abbiamo potuto vedere il convertitore a mezzo ponte funziona perfettamente e io sono davvero molto molto soddisfatto del risultato. Infatti questo progetto non è risultato assolutamente semplice soprattutto considerando le risorse di cui dispongo quindi sono davvero soddisfatto del risultato e di essere arrivato fino in fondo e niente. Il design va migliorato ma ormai non lo dico più ma dal punto di vista hardware sembra davvero un gingillo. Come sempre adesso c'è la parte dedicata agli errori del progetto solo che questa volta essendo che è stato commesso un unico errore ma di importanza davvero elevata perché è un errore che si commette molto spesso su un mezzo ponte e che ha delle cause teoriche e soprattutto fisiche ho deciso di approfondire meglio questo argomento in un video dedicato. Quindi nel prossimo video andremo ad analizzare bene quello che si chiama cross conduction che è un problema abbastanza grave e che può portare alla distruzione del mezzo ponte o anche nel caso alla distruzione del ponte intero. molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima